ciao a tutti eccomi con un video dedicato a toy story 4 e in arrivo il nuovo film della pixar disney toy story 4 e nei negozi sono arrivati personaggi questi sono mini personaggi si chiamano i minis li ha fatti la mattel adesso li apriamo e così li vediamo nei dettagli iniziamo con la pastorella bobby lei bionda col fiocco rosa poi porta la tutina tutta celeste e il bastoncino è fatta molto molto carina questa qui invece è un nuovo personaggio non so come si chiama però dovrebbe essere una bambolina dei capelli un arancio questo bellissimo vestitina può poi vabbè quando vedo il film scoprirò chi è il suo ruolo e come si chiama però dovrebbe essere una bambola questa è una bambola la pastorella e questa è una bambolina molto carina qui abbiamo voody il cowboy eccolo qui ovviamente con l'immancabile vestito da cowboy e il cappello e per ultimo abbiamo la car girl jessy i capelli i capelli rossi ma eccola anche le molto carine vestite da cowboy ovviamente anche lei porta il cappello eccola acqua sono fatti molto carini molto dettagliati devo dire la verità sono fatti davvero bene e questi sono alcuni dei personaggi del nuovo film toy story 4 ok io vi saluto un bacione alla prossima ciao ciao ciao